io voglio far partire una petizione facciamo le banchine non contro sole si c'è tutte le banchine non contro sole ma lo fanno per il periodo invernale a destivo nelle panchie quelle olimpiche portatevi al crema solare c'è poi il cemento che infende oggi dove giocavo la prima fuori casa sicuro contro il pianoco e come sono come prima come prima Marco entra Marco Marco andiamo a fare il numero dentro va bene va bene è un cazzo di gatto o bello? un cazzo Forse devi fare un po' di più Si minchia, in macchina li faccio gli scappi, ma manco Adesso mi dovrebbero ridare i punti Perché ti sento il punto? No vabbè, qualche minchiata ogni tanto la faccio Non solo tu, io ho la patente per mirare Oh Pedda madre Dai che giochiamo di contropiede Dai Qualcuno che sale Abbiamo la palla di noi Tutta la carrivala Bella Troppa, troppa, troppa Mauro, preparati che puoi toccare noi Bravo Enzo Bravo Enzo Vieni 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 Ma no! Ma no! Ma no! Ma era dentro di uno di dieci metri! Minchia, è partito sei metri dietro. Ma dai! Ma sai che con tutti i video che abbiamo possiamo fare il corso su almeno tre partite? Questa è scandalosa! Vuoi gioco? Bravo, è un coglione! Cosa perché gli hanno annullato il gol che era regolare? Ma che giocano! Giocano! Salite ragazzi! State più stretti! Forti, stretti! Vai Eva! Vai Eva! Qua! 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 Dai! Non ha cambiato niente! Dai! Non è che giocano! André! André! Cinque! Cinque! Fali solo il Michael! Nooo! Cadi! Cadi! Nooo! Nooo! Tenuto o no? Bravo! 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 Nooo! Dai dai che il passo tira fa! Ritrova! Fai il culo è andato! Solo! Solo! Occhio Michael! Bravo! Uomo! Uomo di nuovo! L'abbiamo scosso di tutto! Mi hanno toccato a loro! Temporeggiamano! Non sceglie! Temporeggiare! Bisogna andare in porta e tirare! Qua dobbiamo fare il secondo! Aspettalo! Aspettalo! Qua c'è! Brì, 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 avanti, 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 rista guardando, uomo! Grazie, classe, classe! Ok, va a te, uomo! Ok, ho sette! Bravo, Emy! Bravo, Emy! Ma dove è partitona l'Antonigliano-Sandonato? E' la 2-1 per il San Donato, tra l'Antonigliano-Sandonato. Uomo! Ancora, ancora! Ancora! Ma passa la palla, Diofala! Dai, dai, dai! Se nel nome ci fosse stata prima invece che terza che te... No, guarda, l'altro se n'è andato da un'altra parte del campo per non vedere più Evole. Via, via! Via! Bravo, ho sentato male da sotto! Guarda, arriva, arriva, uomo arriva! Non si deve girare! Non si deve girare! Calma, gatti, calma! Di qua, di qua che c'è! delion Uomo! Dai, vengono! Dai, vengono! Dai, ti stai da sceglie! Prendiamo! Andiamo! Prendiamo! 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 no ma le tagliate perché corre più veloce così c'è lo spoiler c'è lo spoiler adesso l'otto diventa molte oh 7 torniamo torniamo evan torna diciamo di meno si bryan mamma mia mi sembra già un contro senso bravo dietro veramente tanta roba tutti quanti bravo ma no va bene dai 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 giochiamo siamo volto dai 60 metri a bordo Lancialo! Lo lanciava! Sì, sei solo! Vai, vai! Continua, continua! Di là, di là, di là! Bello! Però parti prima, però! Bella! Tira! Dai, non devi aspettare, devi tirare! Mamma mia, bello! Bravi! Va bene, dai! Ho fatto un battito! Lo so! Brava, brava! Sembra che non lo so che stai facendo il fuoco! Guardate che cazzo di cross facciato! Non li batte più i cross! Ma non siamo proprio capaci! Ma quanto cazzo corre tra l'altro? Cazzo di là! No, ma di là si tira, no? Va bene, va bene, dai! E infatti io sul gol ho fatto così perché sapevo che ne avevo tre addosso! Ho detto, beh, per metterla giù e rischiare io la putto dì! Lo va! Lo va! Tieni! Nooo! Non ci credo! Cosa voleva? Non mani o voleva? Era mani! Era mano per noi! No! Mani! Cosa vuoi? Qua! Ma è un pezzo di merda! Questo qua verrà! Non c'è ancora uno. Non c'è ancora uno. Non c'è ancora uno. ma senti che accanimento costorebbe bravo che classe ragazzi tanta roba perché non conosce il padre giusto non ho sentito parlare ma è uno di zona ma è una bella persona si 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 è iniziata ai 29 56 sono 27 minuti adesso quanti cambi abbiamo fatto dai che tanta autogestione battete su roba aiuta roba mamma mia forse batte il record 10 secondi uno l'ha fatto è entrato e che cazzo bravo bravo con quei capelli dove vai no ma mai nessuno sul secondo palo via lì via lì sul dischetto cazzo tutta tutta vieni mattina la nostra aspetta 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 lo basi tu che devi andare grande dai cambia bello bello bella bella raga evan largo largo sul secondo sul secondo sul secondo evan raga dividetevi bene non tutti su un palo eccola vedi il secondo minchia dai ragazzi se tu che devi andare incontro vieni dai che sei solo dai 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 non vogliamo non vogliamo se è ammonito brian dai dai se è ammonito manca pochissimo brian dai è tua brian è tua dai 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 che non può prendermi con le mani dai bravo brian mi aspettavo un pallaccio della madonna brian non ce la fa più ma in posizione in posizione questa bestiazione di brian era a chiudere tutte le quattro di prima del sei sì ma un po' mica veramente dovevano fare un bordello se l'ammonio per la bestiazione perché quello ha bisogno da come ha fiscato il primo tempo ma è per questo questi arbitri qui mi aspetto di tutto mi aspetto di tutto se andava per terra gli dava il fallo è già per terra era già per terra ma guarda che è nostro il fallo porta giù l'altro il fallo di due e vai recupera e vai questo questo era fallo dai tu eri in diffida no no primo giallo primo giallo cinque rossi ce l'ha detto come se fosse un santo no no primo giallo sì 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 e quella è la verità io sono un santo sono verbi comunque almeno un paio di rossi li ha avuti per sfigare sì l'ultimo secondo me te l'ha dato proprio per gratuito per quello io non mi fido più a giocare così uomo dopo che mi ammonisce va bene perdiamo tempo dai che è quasi finita dai ragazzi però il due lo dobbiamo fare dai ma va che è toccata vai batti solo questo terzino e comunque è stato bravo è cristiano qui non ti manco più i nomi indovino dai 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 direi la toccata dietro 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 tieni, tieni, tieni Emi bravo bravo Evan non va qua lungo linea bronzi devi scalare questo è Andre 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 bravo sempre sull'ora roba a corcia roba sono Matti bravo è ancora tua vai chiudi la vai bravo ancora Dei oh Dei c'è la tua carta è scusa è male ogni giorno che cosa vieni vieni bravo c'è la bocca è più veloce lui è più veloce lui oh va bene va bene va bene bravo dai facciamo sto 2 a 0 madonna Samuele di testa Samu di testa Samu dai e di nuovo dai Brian dai ultimo non mollare dai dai vai 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 Andrì, andrì, andrì. Andrì, andrì. Andrì, andrì. Andrì, andrì, andrì. Andrì, andrì, andrì. Andrì, andrì. Andrì, andrì. Andrì, andrì. Andrì, andrì. Questo non è malafede, questo è i sedaltonici. Ma se non andiamo prendendo la palla, ha ragione anche il direttore. Andrì, andrì. Andrì. vuoi gioco si ma non sei in sta casa per smorzare un po' se no qua vogliamo un infarto minchia che colpo di karate ragazzi ma neanche va andato vabbè dietro vabbè andiamo a bere vai 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 dai che è inciampato ma stiamo sbagliando dietro recuperiamo bravo manu calma vai manu solo 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 vai la panierina vai la panierina tranquillo evan è la panierina vai la perdere su abbiamo capito che non possiamo fare le due vanno Samu Samuele bravo bravo eee vantaggio adesso no bravi bravo 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 non battetelo cazzo d'angolo ma ce n'è uno in area bravi ma no non va bene stiamo li cazzo se no ti la passa che siamo tutti dietro vieni la dire con i gol vieni la con i gol vieni la vieni la vieni la vieni la in mamma mia mamma mia vieni tira vieni quanto cazzo dura sta partita se ti faccio male guarda la partita 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 Grazie.